Eccola, unisciti, fai unisciti, fai unisciti No, 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 fermo, fermo Lei ti fa unire Facciamole fare con calma Facciamole prima se fare la live e poi la mettiamo E che cazzo Beh, quante vittorie avevo fatto? 5 Ah, bella, se la segui la puoi cercare Oh, bella, se la segui la puoi cercare Oh, bella, 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 bella questo è una lippa due all'icca voglio rimborsare questa skin non mi piace assolutamente questa qua che c'ho adesso non la voglio rimborsare non mi piace assolutamente due all'icca ok ma perché non cambi gli stili questi ricolorati non mi piace assolutamente questo ce l'hai? questo così bellissimo aspetta devo vedere guarda si vede un gattore ah si si ce l'ho ce l'ho ce l'ho c'è anche questo stile questo qua è stato il mio primo passo che ho scoppato il mio primo passo la prima cosa che ho scoppato su portrait è stato questo è stato questo passo la prima cosa che ce l'ho fatto tu c'hai anche l'alberello possiamo mettere tutte e due l'alberello così poi ci confondiamo poi no no l'alberello no l'alberello mi pare che ce l'ha si ce l'ho a mano a 9 metri mamma mia aspettiamo Giorgi eccola Giorgi ???? maldonia per l'u Ludo vedi col cuore ti fa Ti vuole bene Hai visto col cuore Ti vuole bene Guarda io ho le mochi, ho le mochi delle cose Eccola No ma buongiorno Betty Fittin come state? Ora vi saluto a tutti tutti Allora buongiorno a Davidino Buongiorno a Ludo Ehi? Buongiorno a Lupane Buongiorno a Gabri Buongiorno a Francia Buongiorno a Tommy Buongiorno a Mildonberg Buongiorno al mio super mod Fabietto Grazie Davide dei peccini Buongiorno a Lugos Buongiorno a Lugare Come state? Certo Gabri che potete giocare Buongiorno Andrea E buongiorno a Tessola Hai visto c'è il VIP nel mio nome? Sì Aspetta devo Giscata Ciò iniziare a Chiare Ancora un ospedale tuo papà con il bomber Mannaggia Serto ragazzi oggi tutti potete oggi ho fatto scioglere Sei andato a scuola? Ieri non mi ricordo Tutto bene, sta piovendo e sento freddo Anche da me Ragazzi ho un tempaccio orribile oggi fuori Ah i bidelli hanno fatto sciopro Monelli Monelli stipidelli Ma solo con lo stile Mi pare che non aveva altri Quello che hai tutti Tipo hanno altri stili Sì Eh Ma un'altra skin Che puoi mettere tipo femminile Non lo so Miascolo non ce l'hai Che non mi ascolo Che io non ho le stili di Jones Tu c'hai il secondo stile Io non l'ho potuto sbloccare Come state belloni Oh siete pronti oggi per giocare Quindi iniziate ragazzi a prenotarvi Così possiamo giocare Ciao Bazzi come state? Prontissimi Prontissimi Ha detto questo Ho visto il regalo Ho visto il regalo Non l'ho aperto perché lo voglio aprire con te Quindi l'ho lasciato lì Eeeh Il regalo che gli hai fatto tu Perché lo voglio vedere insieme a te Quindi Tutto normale Tutto regolare Non ci lamentiamo Perché se ci lamentiamo Va sempre peggio Quindi Prendiamoci ciò che ci capita E siamo felici Super Viking Ma buongiorno Come state belloni Sì Se noi seguite Viking Che volete Sette Un locale Non seguite Viking Sono il vikingo di Twitch Andate subito a lasciargli un bel followino Tanto non so Per favore al nostro Viking All'unico Vizio Ovvero Di Twitch Ragazzi Divinato dalle emigrazioni Perché Sì Il vikingo di Twitch Adesso Non so Mi piacerebbe Scusami Cos'è scritto? Se a casa oggi Non lo chiamo mai Non lo chiamo Andiamo a controllare Ragazzi Andiamo a vedere tutte le cose Non so se Mi piacerà sicuro Mi piacerà sicuro Come stai C'è schino Sei a casa oggi? Sono bello Viking Sto bene Ma oggi siamo follo Oggi tutti ragazzi E noi Oggi facciamo Un po' di squadre E Un po' di squadre Quello che vogliamo Ristelli Buongiorno Ma De che Bene Sono bello Viking Sto bene Ma oggi siamo follo Oggi tutti ragazzi Di solito Oggi ci facciamo Un po' di squadre Ah puoi fare Gli allerti gratis Gli allerti sono gratis Se fai gli allerti Puoi mandare Cose tipo Guido Ah ludo Puoi mandare gli allerti Ma pensi che io sia così bionda Lo sono Per carità di Dio Lo so Del senso Sono bionda Ed io ho mandato un allerti Puoi farlo così So bionda Ma secondo me Dal punto so bionda Ti aspetto Ma penso che io sia così bionda Lo so Per carità di Dio Lo so Del senso So bionda Zletai Insomma Mi fai un po' di bottola Ma secondo me Dal punto so bionda Dal punto Insomma Signora Signora Zletai Insomma Mi fai un po' di bottola Ma quale bionda Tu sei mora Sì Facciamo una bella cosa Maschi con Gli allerti Quello dobbiamo fare in creativa Quello lo faremo Nel Dere femminile E Faremo la giornata Organizzata Dove ci facciamo Tutti gli scontri Donde Contro Maschi Sì Ma che sai Siete già pronti Per giocare A direttura Allora ragazzi Se siete abbonati Se siete abbonati A sfruttare Un moderatore Non lo so Fate un punto Se siete follow Dovete Riscattare Ho detto Possiamo aprire una Cirega Nella lobby draft Non lo so In piano bisogno Non lo so Fate un punto Esclamativo In giocabile Prima partita Poi 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 ragazzi mi ha fatto anche un regalino quindi mettete uno in lobi perché ha diritto a giocare come un sab e uno oggi quindi mettetela insieme a Gabby che li faccio giocare insieme mi ero un pappinata mi ero un pappinata ok fermi tutti ma Francia ragazzi è abbonato Francia non deve riscattare Francia è sab e vip non devono riscattare i game quindi non vi preoccupate sab e vip non devono riscattare i game solo i follower devono riscattare i game quindi sab e vip non devono riscattare lo so sto sbagliando che ci sono due Francia ah c'è Francesco e Francia non vi preoccupate allora ragazzi 3 2 1 e si va su Fortnite e andiamo a spacchettare il regalino di Udo eh ah c'è Francesco e Francia andiamo a scena non vi preoccupate allora ragazzi 3 2 1 e si va su Fortnite e andiamo a spacchettare il regalino di Udo visto ancora non l'ho aperto eccola ancora non l'ho aperto vediamo un po' si 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 e lei eccolo mi sembrava c'era l'effetto va bene lo apriremo insieme ma che bello ma grazie Ludo ragazzi Ludo dei tasti saluto lo posso fare quando mi arrabbio mamma mia grazie ma che bello eh niente quando mi fanno seccare quando mi fanno seccare ce l'ho qui in prima linea Ludo grazie di cuore tesoro mio non dovevi sei una puzzola grazie meraviglioso meraviglioso sono contenta sono allora abbiamo Davide, Gabri e Ludo nella lobby eh 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 nulla ah raga poi dovete inserirmi pure al signor Kid in lobby eh Kid eh Skid ah raga ho deciso ehm che i ragazzi comunque mi aspettano oggi per farmi qualche partita quindi ora eh vediamo se ci arrivano eh erano qui allora ciao e allora Fabio loro volevano essere messi tutti nella stessa per fare per giocare tutti insieme allora invitiamo Fran eh sì Fran e Fran c'è dopo Ludo ce l'ho invitato io ah prima lobby mannaggia Kid come prima seconda no 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 allora raga mettetemi nella seconda lobby io ho riscattato due giorni ho riscattato quindi fatevi una cosa non vi seccate mettetemi nella seconda lobby va bene buongiorno si è prenotato alle otto è vero è vero è vero è vero il signor Kid perché mi aveva messo d'accordo con loro in prima mattinata e me l'avevano chiesto perché anche loro essendo che comunque stanno facendo la live per questo Ash grazie per il follow benvenuto vi metto le cuffie belli miei sì sì per favore scambiate la seconda con la terza perché già si erano prenotati ragazzi però un posto c'è quindi uno lo potete inserire Giorgi belli miei buongiorno io ho riscattato due volte gioca con me che ti fa ma infatti tu perché due volte tu sei abbonato tu per te non te lo devi riscattare lo dico sempre o ti faccio tornare i punti appena c'è un moderatore da computer ti faccio tornare i punti forse forse l'avevo riscattato uno per me uno per luto sì sì ora glielo dico allora se ho un moderatore da computer ragazzi mi dovete fare una cortesia un gioca con me glielo dovete tornare a Gabriele va bene? ok ragazzi come volete iniziare a giocare? costruzioni o no costruzioni? no costruzioni facciamo una partita volete farmi una e una? va bene allora iniziamo con le no build ok no sono un buieppino grazie Luzare mamma mia ragazzi Luzare Fabio cioè fortissimi Lu Boss no noi scambiamo non torniamo ai punti e allora sono io quella che scamma non voi o meglio lo dobbiamo dire a sti Galusi fatemi un pronostico va fatemi un bel pronostico per iniziare che oggi facciamo balloria con le kill Giorgi ciao Ceschino dimmi cara lo sai che è Lucas e mi segue su Instagram? vero? è bravo sì perché mi avevi taggata e quindi mi ha iniziato a seguire e ho mandato pure la richiesta ma io per questo ritacco Davide ma tu sei in lobby qua? guarda che molti tasti tasking Davide è in lobby si sabba si fa mamma mia grazie Davide ma vedi che io non ti sento tesoro mi senti? ora ti sento è rimutato è rimutato ah il microfono funziona male grazie Davide per la resente prego pronostica avviato oh cosa dobbiamo fare? questo proprio vediamo vediamo cosa hanno fatto top 3 addirittura le 12 cichine ciao Gimino tesoro buon lavoro grazie che sei passato per salutare tesoro sei Giorgia sono una tonna ah Ludo mi ricordo però non so se ci possiamo vedere al Tenacons perché ci vado tre giorni ci vado 1 e 2 3 vabbè ridiglio perché forse non l'ha sentito cosa? ah non parlavi con me ok scusami no no allora Giorgi mi ha detto Gabriele che ha letto la Comics forse con lui non ci puoi vedere perché si è prenotato per tre giorni e quei tre giorni sono 1,2,3 ah mannaggia ma non puoi venire un giorno prima eh tesoro vediamo vediamo io ormai vediamo vediamo io ho ordinato ma cos'è questo ping tipo al 90 ma perché? forse è la lag della connessione ma non ti preoccupare alcune volte sono i server eh ma c'è brutto tempo fuori oggi ragazzi è parecchio brutto tempo c'è veramente tanto brutto tempo infatti il ping ha un al 90 io andiamo oltre pinnacoli io nel prossimo ho votato sì perché alla fine ma qual'era? top 3 con 12 kill noi siamo dei pro quindi sì dove vi siete buttati? ce ne andiamo a trucio? ringraziare il bus il bus il bus il bus ragazzi ringraziate il bus che Gabriele ci ricorda che dobbiamo ringraziare il bus ah no parecchi no brutti brutti cattivi solo io ho votato sì tutti conoscono il boss ragazzi chi è che non conosce il boss? scusatemi sì ma infatti veramente ah guarda quanta gente scende c'è tanta gente? abbiamo giocato con davidi che abbiamo giocato avete vinto? ogni volta lo facciamo arrabbiare perché gli facciamo l'abbraccio? benvenuto caro c'è un nemico escluse arrivo eh non ho armi eh le armi le armi eh non ce l'ho eh raga ho sono il cecco brutta storia che non c'è aspetta Giorgio io ce l'ho un'arma ma dove sono le armi? io ne ho una per te aspettate aspetta c'è gente ma niente armi niente armi aiuto voglio riposarmi ah per me tutte per me tutte mi sto riposando ragazzi un attimo ok ok sono giusto tutti sono giusto tutti? bravi io non avevo solo il cecco raga non potete fare niente no no tranquilla ci ho provato a sparare di cerco ma insomma con il ping al 90 mi sembra anche un po' mi è piaciuto l'ho citato ok ho qualche arma non dico che sono messa tipo stra bene ma ci siamo ci siamo Giorgi dove sei? io chi c'è va a che c'è l'io da prestare? io io ce l'ho qua c'è gente da te ah ok ho preso uno già arrivo io aspetta mi aiuto io aspetta 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 faccio il riscidio bravi 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 si vola no Giorgi sono qua ah ciù salute ah ciù salute non lo faccio tipo mamma mia con questo libro fabio con questo libro che domanda vuoi fare allora facciamo questo che si riportiamo a riempire le munizioni avevo capito che era il supermercato per questo non potevi startare la live eh sì sì no vabbè ma sono tornata subito Giorgi è una scammer non è una domanda valida io ho pensato tipo non lo è fabio non è una domanda valida mi scusi ora stream ma tipo dal negozio da supermercato se t'è che i computer no no non è valida secondo me Gabriele mi ha raccontato che una volta era andato dal barbiere e si era portato alla e si era portato alla prestation 3 dal barbiere e c'è giocato ah io lo dico cosa cosa cioè come l'ha portata alla prestation 3 dal barbiere scusatemi eh perché c'era la dv il mio amico cioè il barbiere non l'avevo mai sentita sta roba adoro c'è sempre una prima volta visto ora la facciamo la domanda signor fabio ma ma non credo mi sappia rispondere quel libro una domanda simile proviamo fabio ci troviamo ma vecchi comunque quando giochi giochiamo con davide gli facciamo il ballo dell'abbraccio e poi si secca lui e fa ah finiscilo con sto abbraccio così oh c'è un pony c'è un pony ci sono matti dove li sai vabbè è un lama diciamo ma in due facciamo fuori via 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 non esistono più partiti una volta anche se ci hanno cercato con una scorsa si ci hanno scannerizzato e muori ok prendiamo prendete prendete io mi faccio uno scildone a me ha chiamato un barilone allora 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 calmiamoci con queste accuse non c'è il barilone belli però c'è lo scildone si c'è due ah ah il barilone ok mettitelo due così questo lo lasciamo l'u-do-ah che mad di cara a madre si si libro buu vuoi salire? eeeh si dai in casa le amo io sono messa a malata aspettate che ragazzi che qua c'è una cassa vediamo se mi dà un bel pompa che ho un pompa bianco no una mitraglietta oro va bene così si vola guarda bianco sali ok siete nella stessa lobby cance qui ci dovrebbe essere la dottoressa sulla si c'è la dottoressa eeeh io non scampo mai no no boss tu no mai per carità per carità tu non scambi no no tengo ma è successo abbiamo preso la giacca raga abbiamo preso la giacca ma nella seconda lobby non sono kidpina e marty si nella seconda lobby su loro e niente sono terra ruota raga spostiamoci da qua perché ci conviene andarci o le ammazziamo aiuto scappate come non mi stanno prendendo ho sentito esplodere per forza vero la forza sti bot no ma dammi un pompa ho anche sette colpi di pompa raga non ho niente io ne ho questi oh grazie adesso ricaricare madonna quel bot ok ok è andato è andato benissimo mannaggia mannaggia oh sti botte sono fece delle persone raga che c'è Francia perché piangi che è successo che mi avete fatto a me Francia che avete fatto che Francia sta piangendo come vi permettete stare a contatto con Giorgi non fa bene mamma mia aspetta vado un po' come si scende ok perché ho visto un troppo io ah Giorgi poi ci sarò l'evento di Star Wars qui su Fortnite bello vivi nel mondo dei sogni eh sì ciao Tommy come stai bellone benvenuto tra di noi un po' così comunque vabbè ma non mi vuole dare niente ma io impazzisco mi vuole dare il pompa vediamo qua se lo trovo qui che c'è un po' di casse insomma Fabio insomma e Francia perché praticamente c'erano ci sono due ragazzi streamer con cui io mi ero messa d'accordo e per fare un paio di partite ciao Guido per questo e già erano prenotati e per questo ti ho dovuto fare slittare tesoro non prendertela male perché ero messa d'accordo con loro per fare due game e loro praticamente dalla prima erano slittati alla ventordicesima lobby io bene Tommy benissimo Giorgia ehi comunque ti volevo dire hai gli stessi capelli di una che conosco io che è una una cantante una mixer si chiama Alice of Warland uè somiglio a una cantante una mixer come hai detto si è una mixer si adoro ma di niente Tommy di niente ah perché i capelli uguali è lei del signor Pino è il mini ma come dai ci vediamo Francia si chiama Alice of Warland sei nella terza bello bello mio stai nella terza oddio ah è fermato mamma mia ciao Arling come stai? ma anche ma che trance? ma che stai cercando? si distrugge la macchina attenzione andiamo vabbè tanto oh ma che ragazzi c'è una taglia eh si sa qualche parte qua diciamo che ci scegono le kill eh eh dove sa la taglia no? eh non lo so però deve essere qua ecco lì davanti 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 qui 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 ah ma c'è il diritto lì andate lì guardate come dietro deve andare a sotto alla sopraffonti alla ma no ma vieni a giocare io c'ho piacere ma io dico lo sai che non vedo l'ora Francia eccolo alla ecco attenzione oh un pompa decente mamma mia oh finalmente finalmente fino a metter fino a metter si lo prendo vai 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 ho eliminato lì ragazzi sono carammato e c'è diagoli tutti ma si è bloccato il carammato c'è il carammato aiuto c'è il carammato davanti state attenti qua c'è un altro eh lo che l'ho fatto ora mi ha preso una volta eh qua il contro tra l'arammato esplode 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 c'è il carriere di culo devo prenderlo questo qua no eh raga c'è il carriere di culo ma lui vuoi essere c'è il carriere di culo ma dove vanna dove vanna morì c'è il carriere di culo ci arriviamo ci arriviamo tanto che la scheda mia ludo ci arriviamo ci arriviamo lo france eh vabbè ciao con te ma non devi mollare state attenti che ne ho visto uno alla vostra destra c'era uno alla vostra destra state attenti dove c'è tutto questo lutto è passato una persona aspetta c'era uno che stava scappando io intanto noi comunque ti lasciamo france così se metti c6 e ci arrivi hai il posticino e non lo perdi cosa gra ah il libro ragazzi paura me lo sto facendo addosso ma che significa paura poter ciao tutto bene carissimo grazie guardi col cannone no ma l'ha detto è scappato aspetta aspetta io vado qui ma qua potete restare qua potete restare si 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 benvenuto tra di noi ma ciao bellezza grazie mille per la sub regalo di stamattina cara grazie di cuore non t'ho beccato sono entrata poco dopo e grazie allora Danim noi portiamo intanto come primo diciamo come giochi come tipologia portiamogli sparatutto quindi portiamo fortnite portiamo portiamo apex portiamo code porteremo code di nuovo perché l'ho sistemato finalmente poi facciamo il bingo fortnite queste cose qua facciamo ma grazie ancora carissima per la sabbia veramente grazie ehm giorgi ma non puoi fare tipo poche volta minecraft no ma non ce l'ho minecraft tesoro non ce l'ho proprio come gioco non ci so giocare a minecraft raga cioè non c'è mai toccato perlomeno poi su steam ci sono un sacco di giochi belli che possiamo fare tutti insieme sono tanti io ho una pistola devo trovare delle armi non so se conosci gris mod qua c'era la lampada aspetta aspetta non so cerco qualche arma qua dentro al volo raga cerco un'arma al volo c'è una spada laser qua sotto guarda guarda c'è un botto di armi c'è anche la mitraglietta mitica non tu tipo se conosci gris mod è un gioco bello no non lo conosco voglio il gioco horror si boss ti giuro che lo compro cavolo c'è spazio via ti giuro che lo compro comprerò il gioco horror ma in estate lo facciamo belli miei che così abbiamo cioè abbiamo l'estate a disposizione così ci facciamo poi abbiamo ora ci sono gli sconti aspetta raga io il problema è che non ma come si è un riscato non ho le munizioni ragazzi ma che ti serve oh oh raga mi servono le munizioni del pompe e dell'assalto cos'è questa pompe e assalto guai o mi compra ma ce l'ho quello quello ce l'ho andiamo 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 c'è la safe c'è la safe dammeli fuori dammeli fuori usciamo da qua raga se non rimaniamo intrappolati tipo sardine siamo 4 team miss fortnite come stai come stai ma non posso salire aspetta ragia c'è uno da me vai di te le guardie ok non ho più allora aspetta ti do queste vai queste hanno aumentato il danno del pompa non mi pare sai poi quale pompa va bene così caro sono perfetta sì 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 ok se vuoi dire un'altra ce l'ho no 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 va benissimo davidino mamma mia ludonfire ragazzi ludonfire guarda guarda che è forte nazio ragazzi la girl lo stracca no raga non mi pare che abbiano aumentato il danno non mi sembra eccolo guarda la one girl jet ho tutto scarico no da dietro cavolo aspetta attenti attenti oh oh una scendissima questo raga perché il mio quanti schifo oh non c'è shield mi faccio degli shield mi faccio degli shield e questi seguirebbero cosa mi vuole molta lo sono di sopra ragazzi ah oh abbiamo 13 kill oh stanno restando aspetta aspetta come rivoluzione a quarta corro quanto è il tempo mi ha preso di botto dai gabrie esce dalla safe che fa malissimo si lo so uno dietro eccoli eccoli porca no ho fatto uno ancora va ne ho fatto un altro aspetta aspetta giorgia vedi se mi puoi curare calmi lu grazie per il ride bellone eh una parola questo è nel cespuglio raga no non è vero beh mi puoi curare lu io andrò via forse non puoi aspettate raga vai fallo scoppiare sii sii bravi vai e si gode ho vinto anche il pronostico troppo forti ragazzi troppo forti mi chino grazie per il ride buongiorno 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 ciao gimmino buon lavoro allora quante kill io ho fatto quante kill raga abbiamo 16 kill abbiamo mamma mia si vola non mi fa mettere pronto eh si ah no gabrie è tornata alla lobby quindi dobbiamo tornare alla lobby lobby indietro si perché gabrie è tornata in lobby si vince perché manca anto ed è vero ed è proprio vero se viene antonio è finita se viene antonio quello ci inizia a fare l'uccello del male augurio in chat e le perdiamo tutte sister vi siete divertiti su forti avete vinto dov'è la mikis eccolo proprio lui lui boss bravo comando comando antonio prostico chiuso azze ho perso tutti i punti io mi dispiace per chi non ha creduto in noi insomma devo scendere il cane ma diluvia ti capisco lui anche io prima sono tutta uscire e diluviava e volevo morire ho detto ah molto bene ma ne avete fatte win luca ma oggi ho un audio di antonio personalizzato giuro che ti fa schiattare da ridere com'è lo shop vediamo se ci arriviamo a farvelo vedere al volo se no ragazzi potete anche fare il punto esclamativo shop oh ma che figata hanno cambiato ma che bello lo shop no ma come sei crashata amisti mannaggia oh io voglio conoscere amisti questa la perdi la cuna size grazie per il follo come stai benvenuto benvenuta mi levo sto coso perché è un po' caldo devo essere sincera un po' di caldino lo fa buongiorno 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 benvenuto o benvenuta ok va meglio manica a tre quarti ma se entro ho un po' le lobby incasinate lu ti puoi mettere nelle lobby appena vedi la lobby liberati ti infiltri benvenuto 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 certo che li facciamo allora ragazzi ogni domenica io porto i server il bus il bus il bus bravo gabri grazie tutte le domeniche ragazzi grazie davidino davide multitasking io lo dico ovvio ragazzi sempre lui è faccio tutto multitasking mannaggia unico e solo ah vi conoscete allora due fabio abbiamo adesso doppio fabio fabio al quadrato andiamo da jones da jones ok è figo jones è figo avete visto adesso però entrambi fabio molto bene visto fabio doppio fabio abbiamo giorgi abbia quadrato nessuno crede noi e si meritano questo ho preso tutti punti brava bludo brava diggielo fosse bossa top si anche antonia lagufa ma forse giocci vuole giocare con davide qualche giorno ma guarda io potrei essere solo che onorata abbiamo la stessa età che è bello un coetaneo mi sento mi sento meglio caro mio benvenuto allora io 31 quanto mia madre hai visto visto ora chiamo figlioletta ho trovato un'altra figlia sa quanti figlioletti ho qua su twitch tantissimi c'è un 37 anche tu hai tanti figli io ne ho 25 c'è qualcuno si rompe qua si pinuzzo ma buongiorno pinuzzo vedi che ci siete voi dopo sta partita che bello ragazzi che bello ragazzi quando arrivano i miei coetanei è bello nel senso si senti in compagnia brava beh che il gioco ragazzi unisce tutti non c'è età per il gioco cioè è bello twitch è il gioco per questo ma io ti ringrazio danim sei veramente tanto gentile che mi davi così poco ma purtroppo le tacce la sento tutta purtroppo in vecchia non come sono volata ok allora aspettiamelo vi ringrazio veramente tanto io mi ergo con voi altro che ma che che spara con un pazzo io ti vanno no amici e gabriello mi ha fatto come te davide chi io luchessa è davvero molto lievi che sono più che contenta di questo fatto grazie ma buongiorno sei una pazza sgravata posso non l'ha sentito puoi ripetere no no è bravo fidemmi mi sento meno come anch'io ragazzi venite che vi faccio le splescine si uniamoci tutti insieme appassionatamente mi chiede alle mici sei una pazza sgravata grazie di cuore un'altra finita ciao tesoro mio grazie che sei una pazza cosa che scambio fatto oh che scambio fatto oh non è scusate da quanto streami un anno e qualche mezzo non ha scammato niente ho scammato ma noi grazie davide meno male che ci sei tu che mi difendi perché veramente ma non ma non non è scusate senza aver fatto nulla scusate senza motivo vede 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 accusate senza motivo meno male che sei quello che mi difendi ma questo è incacchiato ma per oddio mi si era aperto non so cosa e vabbè è bianco guarda come sta mamma mia vai non puoi scappare meno e che fa scappi tu dove sei? tu dove sei? ci sono certi player che fanno ah è morto così solo? ma cazzo dai 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 aspetta che mi vado a prendere il pompa che è stato così gentile questo corpo questo Antonio Lombardia uh come tantissimi dei miei amici più stretti di Twitch tutti tutti e la Lombardia tutti ci sono grazie per il follo non so se l'ho detto giusto perdonami tu Calabria bella la Calabria raga si mangia benissimo in Calabria mamma mia si mangia troppo bene in Calabria in Calabria abbiamo un amico che lo lo passiamo da perdonami hai ragione purtroppo io non sono brava a leggere i nomi eh gli ho fatto un po' di danno non vedo più però è l'ammerso tra me c'è la nebbia si vede è ucciso sei di Napoli bella Napoli raga ma c'è uno qua bella Napoli bella bello figlio bello figlio bello figlio bello figlio bella Napoli anche a Napoli sono stata raga ma è chi lascia di spavere Napoli è bella bella no no un bel posto Napoli poi comunque la gente è accogliente di simpaticona c'è vabbè 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 che mi spara eh no no sono io sono io monello 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 ciao raffi io sto bene tesoro ho fatto un capo di tutto look mi sono tagliati i capelli shampoo barba sistemato alle sopracciglia mamma mia wow raffi ma bravo così ti voglio bello felice vieni a spoleto ma magari tesoro avendo la possibilità ma io te lo giuro prima o poi ti vengo a trovare promesso 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 prima o poi faremo tutto questo gran mega raduno e vi vengo a trovare anche perché mi mancano un sacco di posti da visitare quindi insomma perché fai i raduni? poi dobbiamo andare anche dalla Michi ci deve fare da Cicerone lei in Germania manca solo la palestra è un po' di muscoli vabbè quelli non sono fondamentali Gabri vieni qua fatti questo che non ok ti manca lo scudo tieni aspetta ciao Ash come stai? benvenuto ora devo andare la prof sta iniziando a spiegare ciao carissimo grazie mille che sei stato con noi alla prossima mi ha fatto veramente tanto piacere conoscerti e buona scuola Giorgi ehi non mi spara mi raccomando non mi spara l'arma come non ti spara l'arma? guarda senza colpi guarda la terra ah ma perché non hai colpi sembra che sembra che fa le foto guarda che mi scamo i messaggi ma cosa hai scritto? io mi sono fatto una polizia generale e non scamo più non è vero non è vero potrei giocare allora caro per entrare a giocare devi riscattare la ricompensa punti canale gioca con me abbiamo gente aspetta facciamo esplodere tutto vedete che le persone sono qui aspetta mi piacerebbe fare esplodere tutto ha fatto uno aspetta una terra ok bello mamma mia siamo troppo forti ragazzi organizzo un bus al femminile la marty george e miche tutta spu ma magari sarebbe la vacanza della vita misti stiamo scherziamo la vacanza della vita sarebbe fermato via no vabbè quello nel carattacolo è devastato e cos'è e cos'è e cos'è e cos'è la scoteca aiuto no vabbè ciao ok che che non manco le cure non so come dobbiamo curarci ma pensavo che c'era solo il botto pensavo giorgi venito alla larga tesoro aspetta devo scappare un secondo devo trovare delle cure dobbiamo scappare niente cure no non c'è cura no non c'è cura c'era forse la cura controlla c'erano le belle la valle dei templi bellissima la valle dei tempi ho quattro colpi di questo qui c'è la carne eccolo le bende aspetta che prendo band comunque c'erano anche prima oh buono buono c'erano 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 di sopra buono attenta sta arrivando lo so sarà un bambino non lo so ora vediamo intanto finisco di curarmi apriti la rossa delle munizioni eccolo no 120 gli ho fatto a questo è fatto questo è fatto questo è fatto allora facciamo così mi faccio un medici ciao portinaio buongiorno carissimo come stanno ragazzi io vi consiglio di visitarla la sicilia è il profumo questo allora prendiamo ora le schede spero via allora però allora a questo punto io mi porto uno scendino anche se sono delle acque o altri io ti direi di andare a con la maria le schede con la macchina ma buongiorno salvatore bello mio ma non c'è le armi come non è le armi do un fucile a pompa no ho un po quello mitico e la strada laser mamma mi dira di se la strada oh mio dio però non ascoltate madonna arrestato richiamo l'estero rischia anzi vabbè vai a prendere le schede io vado a prendere le schede si si giorgio prendere le schede a posto ragazzi io sono qui non riesco a fare niente c'è un tizio sono qui sono qui è il problema che io ho il tizio sopra la mia testa ma qua davanti ando ma come non sono tutti i colpi e lui non mi fa mamma no mi sono bloccata mi sono mannaggia nel cespuglio ma sta laggando perché vedo saltare uno dietro davanti vabbè arriva oh giorgi god mod ma basta giorgi giorgi arrivo grazie mille oddio che cavolo ragazzi non vi mettete contro la zia g perché la zia g di fa fuori si insomma oh bc kill giorgi attenzione mamma mia calmi let's go sti ragazzini sti ragazzini io impazzisco mi volevano fare fuori ma come vi permettete tutto scarico avevo pure c'è un pompa se ti piace qua le schede ce ne abbiamo allora le schede ce ne abbiamo si si ce ne abbiamo mangio uno di questi così tanto per ma buongiorno bossa ma se forti siamo a quale forte ragazzi sono gli altri che mi ci fanno sembrare allora abbiamo fatemi vedere io resterei in zona però ragazzi si perché sennò diamo l'uhip a bossa per favore no no ho tutto carico a quale poi sparo ho tutto scarico questi qui aspetta giorgi mi dica cara vieni qua vieni qua eh no perché danno io c'ho perso qua di star wars ah ok io recupero il mio messaggio grande giorgi grazie antonia cara mia buongiorno ma come non ci ho dato il buongiorno ma sono tutti mamma mia portinaio allora ti farò un posto instagram di buongiorno solo per te farò proprio il post del portinaio buongiorno al portinaio di twitch è l'unica solo inimitabile indiscutibile io proverai a restare ah perché sembra anche tranquilla strano ma vero sembra tranquilla sembra sembra l'apparenza non ci proviamo non ci proviamo no sparano mannaggia vabbè proviamoci se restiamo tutte e due insieme forse forse ce la può guardare quante altre ma c'è un bordello giorgi buongiorno luanto è arrivato ecco fatto e ci hanno salvato le ragazze mamma mia le ragazze che fanno e tutte le ragazze no 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 prendetevi tutte le armi tutte le armi ho un po' chiedo mia madre se mercoledì non vado a scuola così gioco al no la scuola prima di tutto eh mi raccomando io ci tengo ma io lo so tesoro però io ci tengo che la scuola voi dovete essere dovete andare a scuola dovete essere bravi no la scuola oggi non ci sono data perché ieri in pratica mi sentivo malissimo e non mi hanno detto niente mi ha detto eh anch'io maldita qua c'è una tua squadra se da voi si prendetevi armi acqua pieno di armi fate pure c'è una tua squadra mi manca il bar però vabbè alla fine lo troviamo mi accontento ah raga mi hanno sparato mi continuano a sparare ah l'ho visto eh si è una misura le munizioni adesso 190 oh io vado lo ho atterrato ma dove mi sono entrata ma dove sono entrata ma come sono entrata qui ok lo ho atterrato ah me lo finite me lo finite voi da sopra andiamo a finirla andiamo a finirla eh ma qua c'è altra gente aspetta andatelo a finire voi io ammazzo questo dietro io lo ammazzo dietro cioè ci provo perlomeno ad ammazzare oh serve aiuto? dove è andato? ma che è? ma che c'è questo? arrivo 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 ma ragazzi ma cosa c'era in quel cespuglio? io sono qui cosa c'era in quel cespuglio? ma stiamo scherzando è mortissimo vai che è mortissimo e muori ce n'è un altro ce n'è un altro controllo il cespuglio che lo sta restando oddio eh ma sono fatti la tana letteralmente la tana la tana brava brava ma che cazzo c'era là dentro ragazzi una clown fiesta oh mio dio spattate sto cespuglio eh non l'ho preso ok madonna ma oddio ma aiuto di due una clown fiesta c'era in quel cespuglio una clown fiesta ma mi guardo mi guardo a me Giorgi mi spettro certo Gabri subito subito ti spettro subito ragazzi siete tre di due potete vincere potete vincere è la era una fiesta Fabio era una fiesta di clown perché erano colto un cespuglio quindi era una fiesta e li avevo devastati oltretutto uno a terra uno 190 uno bianco di non morivano vabbè Giorgi è non morivano guai o ma ho vinto punti canale penso di sì perché abbiamo fatto noi ragazzi un botto di kill abbiamo al momento 23 kill ma cosa dai però ma ci provo di un animale no 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 è sbagliato non fate perdere Giorgi loro ora ti faccio vedere che fanno un clutch di quelli che tu non hai mai visto ma come la vinto li dobbiamo trovare però poi mettetevi belli in zona Giorgi non la devo fare no 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 per carità eccoli 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 continuo ho sconso no 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 2 contro 1 stavo qua vabbè no 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 non ci credo dai è colpa mia dai è colpa mia esci esci colpa mia no mi stavo curando e vabbè 7 di vita ha vinto Giorgi raga è il nome è il nome è il nome è il nome è Antonio però